E in mia compagnia c'è il presidente della squadra antincendio di Rovetta, Giuseppe Visinoni, che ci parlerà di questa realtà che andremo proprio a scoprire in questa puntata. Innanzitutto Giuseppe ci racconti un po' quanti siete, che lavoro fate e che missioni avete. Avete anche la sede qui alle pendici del Monte Blum. Buongiorno a tutti. Noi siamo, come hai detto tu, la squadra antincendio di protezione civile di Rovetta. Qua siamo vicino alla nostra sede che è un po' di anni che abbiamo lavorato alla grande per completare, per realizzare innanzitutto. Oggi, come oggi, abbiamo in ballo un esercizio di antincendio. Noi in squadra siamo 30 nel database della regione, siamo in una trentina. Quelli che fanno antincendio invece siamo una ventina, quelli che sono abilitati antincendio. Tra questi ci sono i nuovi otto ragazzi, che quello mi fa molto piacere, perché abbiamo la fortuna di avere dentro questi ragazzi, perché oggi è difficile trovare dei ragazzi che entrano a far parte delle squadre, perché di tutte le associazioni, più che altro. Io ho avuto questa fortuna e oggi, adesso sono, dopo i diversi corsi che hanno fatto il corso base della protezione civile, hanno fatto poi quello che possono accedere sugli incendi, corso di primo livello, che sono tutti abilitati. Da poco, nell'ultimo corso che abbiamo fatto, un tre mesi fa, sono tutti abilitati, possono seguirci sugli incendi. E oggi, per questo motivo, faremo un'esercitazione con il pomeriggio in sala dell'elicottero. Prima di parlare di quello che succederà nel pomeriggio, anche noi vi seguiremo in questo, vorrei tornare su questi ragazzi. Mi ha detto che sono una decina che hanno fatto questo tipo di corsi, ma come si sviluppano? Cosa devono fare in concreto questi ragazzi per diventare uno dei volontari qui della protezione civile di Rovetta, della squadra antincendio? C'è il corso base della protezione civile, che è un corso che parla un po' su tutto, quello della protezione civile, sull'emergenza, tutte queste cose. Quando hanno superato questo corso, fanno il secondo corso che poi lo portano a essere abilitati ad andare su un incendio, che fanno un corso appositamente, un po' complicato, un po' più approfondito naturalmente sull'antincendio, che lo distingue dal primo del corso base, quello che è un escurso su tutto quello che è la protezione civile. Poi sul secondo invece è proprio specifico sull'antincendio boschivo. Qui siamo fuori dalla vostra sede, vedo davvero tanti, tantissimi mezzi, qualcuno proprio nuovissimo che verrà testato anche quest'oggi. Quanti sono i mezzi a vostra disposizione e che tipo di attrezzatura avete per risolvere gli incendi qui nella nostra Alta Valle Seriana? Allora abbiamo l'ultimo arrivato, che lo vedete qua alle mie spalle, che è stato contributo alla Regione Lombardia tramite il Comune di Rovetta, che è stato acquistato l'anno scorso, che poi abbiamo adottato del modulo antincendio che contiene 500 litri, è uno. Poi abbiamo un altro sul pick up, l'altro sull'isuzio che è un modulo ancora di 500 litri. Poi abbiamo all'interno, abbiamo l'altro sul bonetti che è un altro modulo ancora, quello di 1000 litri. E poi per l'ultimo, che è quello che useremo oggi, perché in montagna quando ci sono gli incendi, dove non arriviamo con i mezzi, con il pick up, perché abbiamo bisogno di acqua nel bosco, dove non arriviamo con i mezzi antincendio, c'è il modulo elitrasportato che è questo qua vicino a me, che è un modulo speciale, perché è un modulo basculante, cosa vuol dire? Che arriva l'elicottero, che poi oggi lo vedremo, viene attaccato sotto l'elicottero e lo porta in quota dove potrebbe servire l'acqua, dove specialmente quando si spegne o anche fare bonifica, quello più importante, che te lo porta in quota l'elicottero, che anche questo ha una capienza di 500 litri. Cazzo, insomma, super attrezzati. Tornando invece ancora alla sede, so che questa sede è intitolata una persona speciale, l'ho stato fatto proprio nel 2006. Eh sì, era uno dei nostri volontari, che è uno dei più bravi volontari che avevo, che era impegnato, si impegnava alla grande, Giommi, e purtroppo causa un incidente, purtroppo è deceduto e questo abbiamo pensato di titolargli la sede. La squadra Antincendio di Novità ne fa tanti durante l'anno di interventi? Ne facciamo diversi, su tutto. Allora, innanzitutto noi siamo nati come antincendio, però siamo i pionieri della giornata ecologica, quello tengo a dire, perché la prima giornata ecologica è stata fatta da noi 30 anni fa ormai. Abbiamo anche i sentieri. L'anno scorso abbiamo realizzato un sentiero nuovo, che ho qua alle mie spalle più a circa mezzo chilometro da qua da dove siamo noi, e anche due l'anno scorso abbiamo fatto anche un altro sentiero, abbiamo sistemato un altro sentiero, perché facciamo un po' su tutto. Facciamo anche la lotta, adesso stiamo facendo la lotta al Bostrico. Invece per quanto riguarda gli incendi, con questo cambiamento climatico, sono aumentati anche i vostri interventi negli incendi veri e propri? Nella nostra zona fortunatamente siamo abbastanza, però ti devo dire che con il cambiamento climatico, una volta mettevamo il modulo antincendio due mesi, se no sui mezzi antincendio, adesso purtroppo dobbiamo tenere su anche sei mesi, questa la dice lunga. Ci racconta un po' la sua storia all'interno della squadra antincendio di Rovetta, quando è entrato, quando ha conosciuto questa realtà e perché ha deciso anche di fare il volontario? No, qua devo dire che la squadra antincendio l'ho creata io, sono stato io che ho puntato ancora in comune di Rovetta di creare questa squadra, poi abbiamo iniziato col comune di Rovetta, poi ho dovuto prendere in mano le redini io, è 34 anni ormai che faccio il presidente, gli ho detto anche di cambiarmi, però vabbè, però in parole povere l'ho creata, l'ho creata proprio da niente. Mi sono dato da fare e ci siamo riusciti a creare la nostra sede, che ne vado fiero perché con una squadra piccola come noi, avere una sede così, abbiamo tribulato. Non so neanche come ho fatto a portare a casa tutti questi soldi, però ci siamo riusciti e questa è una bella soddisfazione sia per me anche per i miei volontari. Alle sue spalle inizia quello che è uno dei sentieri più importanti per quanto riguarda il territorio di Rovetta, quello che porta al Monte Blum, peraltro abbiamo visto anche durante questa intervista super battuto dalla gente. Allora, quando si arriva al Monte Blum ci si trova in una zona bellissima, con tanti animali, si vede poi anche il lago di Iseo, si vede un po' tutto, tutte le prealpi europee dietro e poi oltre a quello abbiamo, come dicevo, gli animali, abbiamo il cervo, il camoscio, il capriolo, le aquile reali anche quando arrivano, c'è un po' di tutto insomma. Comunque è poi un sentiero battutissimo perché tante volte sembra di essere giù ai mercatini della gente che passa a salire. Sopra qua di noi abbiamo anche un posto dove può pescare l'elicottero a vasca antincendio, che l'abbiamo in quota proprio per far pescare l'elicottero, che tre o quattro mesi fa ce l'hanno tagliata completamente, ce l'hanno distrutta. Adesso abbiamo in ballo il progetto per farla interrata perché c'è qualcuno che si è divertito a fare questa cosa qua. Una vasca poi, era una vasca di 12.000 litri, nuova, che aveva due anni, appena messa giù e ce l'hanno tagliata. Adesso è distrutta un po' ai poveri e non si può più usare. Adesso ci sarà il progetto per farla interrata, dicevo. Sì, abbiamo preparato il geometra che stava facendo gratuitamente il giudice Mauro, che è di Clusone, che si sta impegnando lui a preparare il progetto. Adesso andrà in comune poi con Itamontana per cercare di accelerare le cose. Oggi andremo a vivere insieme a voi quella che è un'esercitazione importante, perché è scelto questo mese di novembre. Soprattutto arriverà anche l'elicottero da parte di Regione Lombardia per fare tutti i test del caso, per non lasciare davvero nulla al caso. Allora, perché abbiamo fatto questo periodo? Perché solitamente, come l'anno scorso, che non pioveva, eravamo già entrati in una zona di pericolo di incendio. Quest'anno fortunatamente piove, fortunatamente e non proprio fortunatamente, perché sta creando dei problemi. Al contrario adesso, purtroppo, come la cosa. Però in questa, per preparare tutti i mezzi antincendio, i lacchi sono sempre attivi, però c'è sempre qualcosa che non va. Allora questa mattina prepariamo il tutto. Siamo riusciti a presentare un po' a 360 gradi quelle che sono le attività della squadra antincendio qui a Rovetta e della protezione civile, grazie alle parole di Giuseppe Vizinoni. Andiamo a conoscere qualche giovane, perché mi ha detto che sono davvero tanti, Giuseppe. Sì, sono otto, oltre gli altri che sono un po' più vecchi, cioè un po' più anziani, tolto i primi che sono trent'anni che sono dentro, però questi veramente sono dei ragazzi nuovi. Ci manca uno oggi che è quello più giovane di tutti, che ha appena compiuto i 18 anni, anche quello è abilitato già ad andare sugli incendi, però ci sono anche gli altri che adesso sono tutti lì dai 18 ai 25, 30 anni, circa sui 25 anni tutti. Ed eccoci qui con uno dei più giovani volontari della squadra antincendio di Rovetta, sto parlando di Lorenzo Gallizioli. Ciao Lorenzo, insomma raccontaci un po' perché hai deciso di far parte di questo gruppo e di fare il volontario. Ciao a tutti innanzitutto, come hai detto te adesso, sono il più giovane volontario dell'antincendio boschivo di Rovetta. Sono entrato a 18 anni e pochi mesi, con l'esperienza di Vizinoni, il nostro presidente, che ha tentato in tutti i modi di portarmi dentro in questa squadra e ci è riuscito, evidentemente. Sono qui e... Come è stato fare i corsi? Fare i corsi, vabbè, niente di impegnativo, bene o male. Il primo corso di protezione civile, non dico una passeggiata, però comunque sia ti apre un mondo che dopo non è niente a confronto dei corsi in realtà, perché quello che ti dicono al corso dopo va in certe situazioni come in Emilia Romagna, è tutto molto diverso. Diverso invece è quello di antincendio boschivo, quello cominciano a intervenire anche i Vigili del Fuoco e tante altre autorità che ti mettono in difficoltà comunque. Però insomma ce l'hai già accennato, la tua prima vera esperienza è stata con l'alluvione dell'Emilia Romagna, non hai esitato a partire quando ti hanno chiamato? Assolutamente no, me l'han detto il sabato pomeriggio, siamo partiti lunedì mattina alle 2 qui da Rovetta, qua dietro, proprio qui, siamo arrivati in Emilia Romagna che erano le 6 e mezzo più o meno di mattina, abbiamo finito quel giorno alle 9 e mezza la sera di lavorare. È stata un'esperienza molto interessante perché alla fine conosci gente, conosci realtà che non avevamo mai visto prima e niente, sono stati 5 giorni molto intensi perché le ore di lavoro erano tante, le ore di riposo erano poche e mangiare, non mangiavi, dormire, dormivi 3 ore a notte, non riuscivi a riposare, comunque tante soddisfazioni quando siamo rientrati. Il momento più duro di questa esperienza oppure della tua esperienza qui all'interno della squadra antincendio di Rovetta? Penso che sia stato proprio in Emilia quando siamo arrivati e ci siamo ritrovati in una casa che l'acqua arrivava al secondo piano e la signora, la proprietaria di casa, ci ha detto ma ho sentito un pota, siete di Bergamo? Sì, allora sappiamo che riuscite a liberarmi tutta la casa perché non ne potevo più. Carina questa signora, immagino anche da parte vostra la vicinanza a queste persone, anche il loro aiuto non deve essere davvero stato facile. Invece ci racconti il momento più bello, anche solo perché ogni tanto vi divertite insieme, immagino? Sì, assolutamente, siamo una squadra e di conseguenza siamo una squadra sia quando interveniamo anche quando ci divertiamo perché alla fine facciamo anche noi le nostre cene, i nostri aperitivi di squadra, ma è sempre bello fare anche così. Dopo, come oggi che c'è l'elicottero, per noi è anche quasi un gioco, per chi non ha paura è quasi un gioco perché alla fine è un po' come in un film, una realtà così. Abbiamo disturbato durante i preparativi di questa esercitazione qui a Rovetta quest'oggi anche Paolo Beccarelli che è un altro dei volontari, anche a te raccontaci un po' la tua storia qui all'interno della squadra anti-incendio di Rovetta perché hai deciso di fare il volontario. Ma ci tenevo a dare un contributo un po' al mio territorio e diciamo che un po' Beppe Vizinoni ci ha tirati dentro un po' tutta la nostra compagnia di amici e ci ha coinvolti lui, siamo entrati in 6 o 7 nuovi e diciamo che è bello partecipare e dare una mano per questo. Come è stato anche per te fare i corsi e prepararsi anche a questa esperienza perché insomma bisogna essere preparati per far parte della protezione civile. Sì ovviamente, dopo noi siamo squadra anti-incendio quindi più che altro prepararsi per gli incendi è quello. Infatti servono questi giorni di esercitazione per vedere se l'attrezzatura è pronta, la manutenzione e come adoperarla poi durante l'emergenza. Il tuo primo incendio com'è andata? Io non ne ho ancora fatti perché ho fatto il corso a aprile, maggio. C'era un incendio a Castione che sono andati altri miei compagni però loro avevano già fatto il corso quindi noi stavamo ancora facendo scuola. Quindi insomma hai potuto assistere da lontano se possiamo così definire questa oggettivamente intervento a tutti gli effetti. Anche per te c'è stata però l'esperienza in Emilia Romagna. Quella sì è stata la mia prima esperienza come protezione civile. Siamo andati a fare il movimento terra quindi siamo scesi con la moto Cariola, Scavatore e Bonetti che è furgoncino. L'è stata abbastanza forte perché vedevi una realtà dove appunto i cambiamenti climatici hanno potuto impattare sulla vita comune e diciamo che era molto difficile come situazione. C'era fango e terra dappertutto. Comunque sono intervenuti in tanti qua dalla provincia di Bergamo e dalla regione Lombardia e lì a Sant'Agata, sul Sant'Eno eravamo tutti noi qua dalla Lombardia infatti. Te l'aspettavi così la situazione? No, no. Così brutta no. Appunto anche perché tu vedevi tutti questi mezzi che si trasportavano alla terra, c'erano giù anche i camion tre assi, tutta questa carovana di mezzi che portavano terra e fango in un campo a sette dove poi in poco si riempiva questo campo a sette. Per fortuna c'era una pala che ammontonava tutto, comunque ci sono formati dei muri alti vari metri di terra e fango. Perché i nostri telespettatori e chi ci sta seguendo da casa dovrebbe fare il corso della protezione civile, fare il corso della squadra antincendio e unirsi al vostro gruppo? Perché siamo un bel gruppo. No, se si vuole dare una mano, si vuole essere attivi e comunque dare un contributo alla società è un bel metodo. Dopo comunque siamo volontari quindi si partecipa in base a quando si ha tempo. Incontriamo anche il vice sindaco di Rovetta, Cristina Rotoli. Noi oggi abbiamo vissuto una giornata davvero intensa qui a Rovetta insieme alla squadra antincendio, ma insomma loro sono davvero questi angeli custodi di questo territorio, fanno le esercitazioni, si impegnano, sono sempre a disposizione, abbiamo raccontato anche le loro storie, il loro impegno anche per quello che è stata l'alluvione delle Milo-Romagne. Insomma sono giovani e meno giovani che si danno da fare per questo comune, ma anche per tutta l'Alta Valle Seriale. Sì, al contrario di quello che fanno, io dico sono esplosivi. Prendetemi con le pinze perché sono veramente sempre sul pezzo, hanno una generosità incredibile ed è anche un vanto averli sul nostro territorio. Ringrazio il presidente, il nostro Beppe, ringrazio tutti quelli che lo affiancano e che fanno un lavoro non indifferente. Grazie davvero. E io ne approfitto, a questo punto lo faccio dire a te Cristina, insomma perché uno dovrebbe entrare a far parte di questo gruppo qui a Rovetta? Ma penso che il volontariato faccia bene più che altro a chi lo fa. Deve essere una cosa che viene dal cuore, come diceva Beppe, certo serve tanto impegno, ma penso che sia anche un modo per fare comunità, per incontrarsi e soprattutto lo dico ai giovani, ce n'è uno che ci sta guardando appena di là e mi raccomando, fa sempre bene, fa bene più che altro a chi lo fa.